Per i trapassati, attraverso Mario del Giglio, guida. Quando partecipate ad una celebrazione, rivolgete tutto il vostro pensiero ai vostri cari ed essi saranno vicini a voi, felici, come non mai, di essere invitati ad una festa e non ad un evento triste. Ricordateli con allegria e non con tristezza. Ricordateli come se loro fossero insieme a voi ogni qualvolta il ricordo ritorna a voi. Non esiste miglior preghiera di questa per ricordare tutti i fratelli. Quando avrete compreso questo importante compito e sarete convinti di non avere più barriere tra noi e voi, allora il Signore saprà ricompensare tutti per una vita migliore. Non pensateci come se voi foste i fortunati e noi i deboli e gli afflitti. Credetemi, è al contrario, perché la vita continua. Noi che viviamo di qua siamo felici più di prima. Ricordateci, senza separazione alcuna. Vi rammento una cosa. La vita è come un fiore. Quando tutti i petali sono stati tolti, resta comunque il gambo, che è la vita che continua per l'eternità. La vita è come un fiore. Grazie a tutti